Siamo qua oggi a parlare di un argomento un po' veloce, niente di complicato, su quando voi arrivate a Paros o per vacanza o anche per rimanere a lungo termine, ecco una cosa che a tutti quanti serve in questo mondo ormai ultramoderno e praticamente impossibile farne a meno, cos'è? Il wifi, la nostra connessione internet, adesso ovviamente che giorno d'oggi negli ultimi anni abbiamo anche questo roaming che ormai è diventato europeo, perciò di più di volte il nostro telefonino può compensare questa mancanza di wifi, ma ovviamente se si tratta di un po' di chat, instagram, facebook, quelle cose lì, vedere qualche piccolo video, perché poi dopo dipende anche voi dal tipo di contratto che avete, a volte può finire, può costare, può essere poi una brutta pacca nei denti, a volte è capitato anche a me quando ero all'estero. Prima, vabbè, anni fa non c'era neanche quello, perciò era praticamente un disastro anche per me quando viaggiavo, adesso però oggi, anche a Paros, siamo diventati un pochettino, da quest'anno un pochettino più moderni, della novità che voglio presentarla appunto perché l'ho di ricultura comprato e messo nel mio tattoo studio ed è questo, va bene, prima, a parte il telefonino che uno può usare anche il giorno d'oggi, come mi ripeto, c'era anche questo, e c'è ancora, questo piccolo oggettino qua, ve lo faccio vedere sul giornale, questo piccolo oggetto qua, che è praticamente un mini router, dove lui si può comprare sia la Cosmoteche, alla Wind qua o alla Vodafone di Paros, costa un 50 euro più o meno, dopo sarà tuo, te lo porti dove vuoi, e poi inseriti in una sim card a prepagamento, praticamente dove, praticamente con più o meno 20 euro, 22 euro, c'hai quei 50 gigabyte, che vanno bene se tu vuoi chateare, vedere qualche video così, ma se cominci a vedere qualche film, o c'hai bambini che vogliono vedere i cartoni animati, o se addirittura vuoi fare uno streaming, siamo già fuori praticamente da quel programma lì, o ti consumi una marea di soldi, perché uno dice, vabbè, ma 50 gigabyte, però è anche vero, che molte di queste compagnie a volte arrotondano i 50 gigabyte, si svaniscono anche in una settimana a volte, che poi magari uno è una stessa cosa, perché se guarda due o tre film, e ti ha già preso lì vari gigabyte, non è difficile, comunque diciamo, è un accessorio valido, perché uno se lo porta a casa, se lo porta in spiaggia, dove vuole, c'ha questo wifi hotspot, diciamo, che lo puoi usare praticamente tranquillamente, ora però diciamo, se uno dovesse stare a lungo termine, magari diventa già una spesa, perché sicuramente io ho visto alcuni amici che l'avevano preso, poi l'avevo usato anche un periodo, altro che 20 euro, non basta 20 euro, non mezzo, ne mangi a via 50, 60, 80, anche 100, perché, sai, se uno gli piace vedersi una serie tv, qualcosa, beh, lo usa, insomma, lo usi come hotspot, diventa che si consuma, ecco, tutto lì, e allora un'alternativa a questo turistico non c'è, vabbè, però se uno sta una settimana, dieci giorni, dice, vabbè, c'è questo cosino qua, poi te lo puoi portare anche con te, basta che ci sia altri posti dove viaggi, le stesse tipi di compagnie, per dire Vodafone, che è internazionale, ci metti dentro un'altra sim, e va bene così, o addirittura la stessa sim, puoi usarla anche in Italia, per dire da un'altra parte, che sia in Europa, basta che la ricarichi tramite online, puoi usare la stessa cosa, ecco, non è problema, assolutamente, al giorno d'oggi riusciamo a usarla un po' in tutta Europa, queste cose qua, meno male, prima invece la usavi solo in Grecia, fino a qualche anno fa, e quando ero in Italia, potevi buttare via il macchinino, che era sim. Tornando all'altra novità, è questa, che io quando, per dire, ho perso il dato studio, ho preso l'appartamento, ero sempre con questo problema, che mi devo fare questo contratto in internet, avere il telefono, anche se non mi serviva, per avere internet, e allora li ti chiedono sempre il contratto d'affitto, ti chiedono sempre dove vivi, perché in certi posti magari non c'era tanto buon segnale, o non ci arrivavano bene loro quei fili, molte volte anche strutture un po' più vecchie, magari non c'è mai stato il telefono, non riuscivano neanche a portarti la linea telefonica, e questo anche durava un mese di tempo per averlo, non durava, dura, 20 giorni, 30 giorni, a volte addirittura nel ristorante Tappas che avevo fatto, ci avevamo messo tre mesi per avere la linea, tre mesi per avere internet, ci avevamo aperto che non potevamo avere il post per i clienti, perché non arrivava la linea internet, poi è arrivata, quando già era ora di chiudere per l'inverno. Evitando onze tutte queste cose qua, a giorno d'oggi si può, si può, perché intanto quando tu prendevi, che facevi un contratto, praticamente ti trovavi, il contratto dura due anni, come tutti i contratti qua in Grecia, non solo in Italia, ma qua in Grecia vanno di due anni tutti i contratti, e praticamente anche se tu stai tre mesi, poi te ne vai, il tuo contratto devi pagarlo, perché sennò ti arrivi in Italia, essendo Europa ormai è tutto collegato. Adesso, il giorno d'oggi c'è, che la, io dico Cosmote, perché l'ho trovata Cosmote, poi magari anche le altre compagnie lo stanno facendo, non ne ho idea, però hanno fatto questo router qua, vedete qua nella fontina, io ce l'ho qua nel Tattoo Studio, ma non lo posso staccare, per farvelo vedere, sennò non potrei parlarvi in questo momento. Questo router qua, uno diceva, no è un router furbo, perché questo router qua, magari esiste già in Italia, però per noi è una novità, ecco, quello lo voglio chiarire, io in Italia non ci sono stato, magari c'è già, ma qua è una novità, è arrivato appunto da un mese, che l'ho preso io, ne sono contento, perché prima di tutto c'ha molta più potenza degli altri router, non dipende più da una linea telefonica, praticamente è una scatolina che prendi, l'attacchi alla corrente, ovunque tu sei, ma dico ovunque a Paros, ovunque in Grecia, ovunque in Europa, attenzione, cioè tu la compri, che non costa poco, questa qua costa su 120 euro, stavo guardando il prezzo, questo è su 120 euro, però è un router con due antenne, ha molta potenza, e tra l'altro 150 Mbps, non so come si dice, ma Mbps, è giusto, 150 di potenza, perciò è buono, e praticamente che cosa ha lui? Lui lo attacchi alla corrente e funziona, c'è dentro una sim card, senza limiti, praticamente un limite, senza limiti, tu la puoi praticamente, usare 24 ore, ogni giorno di tutti i mesi che ce l'hai, non c'è problema, tu puoi consumare quello che vuoi, questo va a sfera, non c'è problema, e questa sim card, è una sim card solo dati, connesso direttamente via satellite, e praticamente da internet, ecco molto semplice, allora che cos'è? Che tanto io se mentre viaggio, me lo porto con me, perché non pesa un cavolo, è una scatolina, è tipo tra pacchetti di sigarette, me lo metto in borsa, prendo, viaggio, io vado in un hotel, dove vado, in Germania, o dove vado in Europa, per dire, me lo attacco alla corrente, e io praticamente, ho internet, internet, che questo internet, questo router, è come tutti i router, di dietro c'è tutti gli attacchi, per i cavetti, che puoi attaccare il post, puoi attaccare il computer, è chiaro che è wireless, perciò magari non ti serve, a te parlarti via i cavetti, per attaccare il computer, ma certi computer, che magari sono un po' vecchi, e non hanno un buon segnale wireless, certe situazioni, che richiedono magari, una connessione, diretta a un router, questo ce ne ha, c'è cinque porte, tranquillamente, solo corrente, perciò, se tu per dire, ti trasferisci da un appartamento, all'altro, io come prendo, do la chiave indietro, di questo appartamento, vado all'altro, metto dentro il mio router, e sto già a internet, è fantastico, io lo uso per vedere, programmi televisivi, lo uso per il tattoo studio, che usiamo molto internet, lo uso in questo momento, per lo streaming, che ha una qualità eccellente, non mi ha abbandonato, e dico, è una buona novità, ecco, è una cosa, abbastanza buona, perché molte volte, capitava con la gente, che diceva, sai, il proprietario, mi fa un buon prezzo, ma non mi fa il contratto d'affitto, non posso avere internet, ovviamente, perché ti richiedono un contratto d'affitto, risolto il problema, a volte sai, sono in un appartamento, adesso andrò a dare l'altro, però, per fare la domanda, di slazzare, di tornare a rimettere internet, nel nuovo appartamento, ci vuole un mese, due, e poi, sempre una spesa, e sempre, cose da fare, tramite telefoni, che parlano greco, insomma, diventa un pochettino, una rottura di scatole, e altre volte, gente che magari, ha fatto un piano, di stare qua un periodo lungo, non è andato come voleva, se ne va, e cosa fai? Te ne vai, corruta a casa, e dici, ma come lo pago? Tramite internet, c'è l'applicazione, della compagnia, che è anche in inglese, paghi, online, non c'è problema, e ti accanto in andare, con la tua targhetta, hai un contratto di due anni, perciò due anni, la devi pagare, se tu lo finisci prima, nel senso che te ne vuoi andare, non vuoi più pagare, hai una penale da pagare, che possa essere più o meno, sui 150 euro, nel senso che tu chiudi il contratto, in anticipo, hai questa penale qua, però, visto che tu lo puoi usare, anche in Italia, alla fine dici, vabbè, me lo porto in Italia, me lo porto dove vuoi, me lo porto in ferie, diventa un compagno di viaggio, ecco, questa è una cosa, che purtroppo, molta gente non ha avuto, l'opportunità, di avere un buon internet, e, hanno comprato, se scatoline più piccole, però sai, se stai due o tre mesi, diventa costosa, hanno meno potenza, ovviamente, va bene, queste scatoline, le più piccole, che ho fatto vedere, primariamente, vanno bene, per un periodo di ferie, ecco, ma se uno deve lavorarsi, con internet, vuole un router serio, senza dipendere, da fili, e telefoni, allacciamenti, di questo tipo, la soluzione migliore, è questa qua, dove si trova, lo troverete, quando arrivate al porto, di Parichia, praticamente, che c'è il mulino a vento, c'è la piazza principale, dove c'è la polizia, voi andate fino in fondo, troverete, Germanos, che praticamente, fa parte anche di Cosmote, dove ha di questi accessori qua, che fanno anche contratti, troverete di fianco la Wind, e la Vodafone, in un'altra strada, più dietro, un paio di strade, più dietro, che si chiama, Peria Fira Corsa, all'inizio di questa strada, ma lì basta poi chiedere, della Vodafone, ce n'è solo una, come c'è solo una Wind, come c'è solo un Germanos, il Germanos, la differenza che vende anche, roba elettronica, che serve anche, per quando ti serve delle batterie, fotocamere, roba da video, accessori elettronici, adesso lo sto pubblicizzando tanto, ma in realtà, non è che mi sto pagando, lo sto pubblicizzando, perché è l'unico negozio, di elettronica che c'è, serio, perché gli altri sono, magari hanno due, tre cavolatine, lì vai dentro, c'è un sacco di materiale, di elettronica, e, molto valido, anche come prezzi, poi dopo, poi c'è un altro, un altro negozio, che mi ha aperto da un anno fa, che per me, è veramente, una mano santa, perché, quando qua si rompeva qualcosa, dovevi mandare ad Atene, a qualche compagnia, ad Atene, a ripararti l'iPad, il telefonino, quello, hanno aperto, i Repair, i Repair, che io riparo, un bel negozio, professionali, c'ho già speso, un sacco di soldi, visto che avevo, tante roba da riparare, che però non lo mandavo ad Atene, perché poi vanno, non sai quando arrivano, e c'è anche la spesa di, di spedire, e riavere, insomma, si faceva, se era necessario per lavoro, a Repair, è praticamente un negozio, che anche loro vendono, da cose, telefonini, da computer, ecco, un po' di varia roba, ma più che vendere, sono proprio, una compagnia, che ripara, praticamente, tutto quello elettronico, che si rompe, dal telefonino, al computer, alla camera, è molto valido, è sempre lì, nella zona periferia, e buono che ci sia, perché così, da una parte, potete comprare, dall'altra potete riparare, ecco, buono saperlo, anche questo qua, adesso, non ho fatto il video, per farvi vedere, dov'è, comunque, quando uno mi chiede, tranquillamente, gli faccio, rimando il link, di dov'è, tutto, comunque, importante, ecco, quello, internet, è una cosa, abbastanza, per riguardo a telefonare, non c'è problema, perché voi venite, praticamente, se volete, un numero greco, per dire, se uno dice, ma devo aprire, un numero bancario, ti serve, un contratto di, anche se, prepay, un contratto, praticamente, di, di un telefono, di un numero telefonico, perciò, lì, con 10, 12 euro, si fa un contratto, anche della window, lì di fianco, dove ci sono tutte le banche, per dire, un contratto, dove prepay, praticamente, paghi, finché vuoi, e quando non vuoi più pagare, non paghi, non niente, loro, gli richiedi, il foglio, che ti chiede la banca, e con quello, lì, già puoi aprire, un conto bancario, perché viene richiesto, assolutamente, a parte quello, la bolletta del telefono, una bolletta del telefono, ecco, vale anche quella, appunto, prepay, e poi, anche lì, se vuole, uno dice, ma vorrei un numero greco, anche per stare in ferie, per chiamare in Italia, per non spendere dal mio telefonino, con quella cifra lì, lo prendi, normalmente, hai anche, un tog di minuti in Europa, è valido, comunque, c'è una cifra erisoria, prendi la sim, la metti il tuo telefonino, la usi, poi, per non la usi più, la butti via, ecco, non serve, più di tanto, puoi anche comprare il numero, col telefono, e usarlo anche in Italia, perché alla fine, questo roaming, funziona dappertutto, ma, non penso che sia come niente, in un certo tipo di punto, se tu vivi in Italia, avrai il tuo numero italiano, quello, quello è l'importante, comunque, che io, per sapere, che quando arrivate qua, ci sono i posti, se la situazione è giusta, e questo del router nuovo, salverà molta gente, da questo problema, che c'era fino all'anno scorso, che era, internet, router, allacciamento telefonico, è finita, siamo liberi, ci hanno bloccati, dentro in quarantena, col covid, ma ci hanno regalato, la libertà, dell'internet, questa è una buona cosa, bene ragazzi, vi ricordo, lunedì sera, ora, italiana, 5 e mezza, 17 e 30, ora greca, 6 e 30, 18 e 30, praticamente, per due ore, più o meno, praticamente, dalle 17 e 30, in Italia, fino alle 7 e 30, 19 e 30, scusate, o dalle 18 e 30, alle 20 e 30, qua in Grecia, se voi, schiacciate, suscribe, con la campanellina, con questo canale YouTube, o siete su Facebook, guardate, Paros for you, o in Twix, guardate anche Paros for you, insomma, siamo un po' dappertutto, comunque verrà fatto la prima, la prima della radio, della nuova radio Paros for you, verrà trasmessa, dove ci sono io e Maurizio Tosoni, che faremo questa radio, praticamente una radio, broadcast con commedia, battute, musica, e anche cose serie, che parleremo anche di Paros, informazioni, cose varie, specialmente ci sarà in questa prima puntata, l'argomento, come arrivare a Paros, quando è che devo comprare il biglietto, ma le navi, ma gli aeri, ma cosa devo fare, ma il vaccino, ma devo usare questo, insomma, le informazioni che abbiamo raccolto, da fonti, governamentali, non da Facebook, ma da fonti, governamentali, attuali, le diremo, ovviamente che anche in Grecia, qua, come anche in Italia, cambia le cose ogni settimana, ma più o meno, abbiamo delle basi solide, dove rimarranno fisse, poi le cose più piccole, magari verranno un po' cambiate, e niente, poi ci saranno delle varie scalette, delle varie puntate, in mezzo a questa prima puntata, dove ci saranno un poco di cose da ridere, di cose da piangere, diciamo, no, beh, sarà più sul ridere, niente, con questo, se volete, ci guardate, ci date anche un'idea, un po' di informazione, come anche si sente l'audio, il video, perché siamo un po' principianti in questo della radio, è una cosa nuova che stiamo sperimentando, ci siamo un po' organizzati, come vedete, c'è anche un bel microfono nuovo, e niente, faremo del nostro meglio, e cresceremo con voi, col vostro supporto, il nostro sforzo, di produrre una radio web, interessante, che si chiama Radio Paros for You, perciò, da Radio Paros for You, e da Paros for You, dove sono io adesso, vi auguro una buona serata, perché qua è sera, e ci vediamo lunedì, lunedì, primo di marzo, comincerà, e sarà lunedì, mercoledì, e venerdì, sempre a quell'orario lì, 18.30, 20.30, in Grecia, 17.30, 19.30, in Italia. Ciao ragazzi, grazie per avermi ascoltato, e a presto con nuove notizie. Grazie per avermi ascoltato,